Ehi, problemi a gestire spese e risparmi? Avete tre possibilità. Uno, impazzire dietro ai conti. È impossibile che abbiamo speso 600 euro con la carta. Ci hanno accratto il conto sicuro. Chiamo la banca. Questa volta non mi fregano, ci penso io. 82, più, si sa, anche perché, amore mio, io e te siamo due persone responsabili, mature. 55. Non è possibile che te abbiamo speso 600. Ecco, ecco, infatti avevo ragione. 630. Come 630 erano 600 prima? Avevo dimenticato la pizzata di ieri sera. Li facciamo i conti. 2. Risparmiare sull'arredo. Au! Ma non ti sembra di esagerare? 3. Risparmiare sull'elettricità. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Amore, ti prego, pensaci tu. Non preoccuparti. Vado, accendo il contatore e torno. Oppure affidarsi ad AIP. La gestione di spese e risparmi non è più un problema. Visto, amore? Tutto a merito mio. Merito di AIP. Grazie. Grazie.